Benvenuti a una nuova puntata di ASEANotizie e benvenuto a Mauro Ghiringhelli per questa trasmissione un po' virtuale rispetto a quelle a cui siamo generalmente abituati, il coronavirus impone qualche modifica anche per ASEANotizie, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Parliamo ovviamente di coronavirus, è il tema del momento e tocca da vicino anche il settore dell'autotrasporto, prima di tutto parliamo di sicurezza, quale livello di sicurezza viene garantito agli autotrasportatori? Allora sì, è chiaramente un problema che ci riguarda direttamente perché siamo tra i pochi che in questi giorni possiamo circolare, anzi dobbiamo circolare perché chiaramente dobbiamo mantenere l'approvvigionamento delle merci. La situazione è in continua evoluzione, non è stata facile all'inizio, non lo è facile neanche adesso soprattutto per le difficoltà di reperire soprattutto le mascherine, chiaramente è un problema che riguarda tutti, non riguarda solo il nostro settore, ma è chiaro che noi circolando questo discorso ci tocca veramente da vicino. Nei giorni passati abbiamo subito anche alcune problematiche riguardanti la chiusura degli esercizi pubblici, dei bar, dei ristoranti, perché purtroppo le persone circolano e sono in giro tutto il giorno, ci sono stati un paio di giorni che anche gli autogrill sono stati chiusi, per cui alla fine sono stati un paio di giorni veramente difficili, poi nell'ultimo decreto è stato consentito l'apertura degli autogrill collegati all'area di servizio, almeno per dare la possibilità ai trasportatori conducenti di poter mangiare e rifocillarsi. Alte problematiche che chiaramente sono state riscontrate presso i committenti, spesso siamo stati un po' trattati come degli appestati, invece probabilmente dopo chiaramente i medici, gli infermieri e le forze dell'ordine che chiaramente svolgono un ruolo prioritario ed importantissimo, insomma credo che tutti ci si stiano accorgendo dell'importanza del nostro settore. Peccato che è dovuta, capitava una cosa talmente grave per raccorgersi. Certo, sicuramente ricordiamo anche che molti servizi di trasporto sono stati sospesi, quindi diventa anche un problema a livello economico, soprattutto per le aziende di autotrasporto. Sì, diciamo che chiaramente c'è stata una diminuzione dei trasporti. In questo momento stiamo aspettando l'ultimo decreto, quello economico, per capire esattamente quali saranno gli interventi che possono essere utilizzati dalle imprese del nostro settore, ma è chiaro che avranno delle ripercussioni notevoli che si potranno anche nel tempo, perché chiaramente non sarà una cosa immediata. Il trasporto probabilmente è l'ultimo a fermarsi, ma anche l'ultimo a ripartire. Di conseguenza è chiaro che le difficoltà ci saranno, andranno affrontate e speriamo di avere tempi brevissimi di decreto, perché le aziende ci stanno chiamando, ci stanno chiedendo informazioni. Purtroppo al momento non abbiamo certezze, ci sono bozze, ci sono commenti sui siti, ma ufficialmente il decreto non è ancora stato pubblicato. Certo, non vi sono certezze, anche perché non si sa fino a quando questa emergenza proseguirà, quando invece rientrerà, quindi anche quando le aziende potranno ricominciare a lavorare a pieno ritmo, dunque anche quelle dell'autotrasporto. Sì, perché ripeto, probabilmente la Lombardia, come gli esperti dicono, è avanti due settimane rispetto alle altre regioni d'Italia, per cui noi andando e viaggiando in tutta Italia, se in tutta Europa, e la cosa si sta allargando chiaramente per Europa, è chiaro che avremo ripercussioni che si potranno chiaramente oltre il tempo magari che la Lombardia, speriamo in fretta, possa riprendersi da questo problema veramente enorme. Certo, infatti il problema non riguarda solo l'Italia, dunque riguarderà anche proprio i trasporti internazionali. Sì, è un discorso generale, adesso si parla di chiusura delle frontiere extra Unione Europea, si parla di una serie di interventi, probabilmente come sempre si è un po' sottovalutato all'inizio tutto quanto e adesso bisogna correre i ripari sperando di riuscire a mettere una soluzione a questo problema. Certo, dunque il consiglio per quanto vi riguarda gli autotrasportatori è sempre quello di proteggersi, immagino, quindi per quanto possibile mascherine, detergenti per le mani, dato che comunque il contatto con le persone vi è sempre, insomma. Sì, mascherine, guanti, detergenti e cercare nel limite del possibile di mantenere le distanze. È chiaro che noi parliamo nello specifico di autotrasporto, ma se pensiamo a un discorso legato alla logistica, al deposito, a magazzini, il discorso diventa ancora più complicato perché chiaramente il conducente alla fine nella maggior parte del tempo è solo sul proprio camion, per cui diciamo che problemi particolari non li ha. Certo, arrivi in azienda, di conseguenza ha un contatto, ma credo che il contatto possa essere gestito chiaramente con le protezioni specifiche. È chiaro che il settore logistica, depositi, magazzini è quello che probabilmente in questo momento ha più difficoltà e dove si riscontrano veramente delle situazioni abbastanza difficili. Certo, insomma, speriamo di ritrovarci il prossimo mese con qualche notizia in più, soprattutto con qualche notizia positiva, perlomeno per quanto riguarda la ripresa delle attività economiche. Io intanto la ringrazio come sempre per questa chiacchierata a distanza e dunque alla prossima puntata. Grazie a lei, grazie a tutti. Grazie, grazie anche a voi da casa, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.